Acquisti All'estero senza fare acquisti. Impossibile! Acquisti! Pocupchi Si può comprare in un negozio, al mercato o in un grande magazzino. Negozio Magazin Grande magazzino, centro commerciale. Targovi center Mercato Bazar Se c'è, vale sempre la pena di visitare il mercato delle pulci. Mercato delle pulci Blaschini rinac Blaschini rinac Chi ci aiuta? Il venditore, la venditrice. Prodavez Prodavscizza Prodavez Prodavscizza E a chi rivolgere le nostre dimostranze? Il direttore, la direttrice. Director Director Di solito i cartelli sono chiari, ma è sempre meglio saper dire Entrata VHOT 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 Uscita VHOT 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 E in particolare Uscita di emergenza Avarijny VHOT Avarijny VHOT Ecco altre parole legate allo shopping VETRINA VITRINA VITRINA CAFFA CASSA CASSA Abbiamo bisogno di aiuto e vediamo qualcuno che non sembra un turista. Si può chiedere Scusi, lei lavora qui? Scusi, lei lavora qui? Prostite VY ZDES RABOTAETE? Prostite VY ZDES RABOTAETE? A volte ci serve il consiglio del venditore. Posso consigliarmi un momento con lei? VY MOGETE MNIE POMOĆ VY MOGETE MNIE POMOĆ Un commesso esperto ci preverrà così. Come posso aiutarla, signore, signora? CHEM YA MAGU VAM POMOĆ? CHEM YA MAGU VAM POMOĆ? O più direttamente CHE COSA CERCA? CHE COSA CERCA? CHE VOY ISCHETE? CHE VOY ISCHETE? È il momento di descrivere esattamente ciò che vogliamo, ciò che abbiamo in mente. Cerco qualcosa di più piccolo. CANiences O INVECE O INVECE PIU GREUN BOLSCHE BOLSCHE migliore o semplicemente come quello che ho visto in vetrina e c'è la risposta classica che tutti hanno dato una volta. Sto solo guardando. E se siamo fortunati è proprio quello che cercavo. Si può ammettere questo mi piace. A volte si può dire in tono cortese questo non mi piace. Oppure uscirne gentilmente grazie ma non è quello che cerco. Grazie non è quello che cerco. Alla fine si arriva al prezzo. A volte si può tentare un allusivo. Si può avere uno sconto? Cosa importa il prezzo? Quel che conta è che si è in vendita. È in vendita? Peccato. È troppo caro per me. Ma sì dai perché no? Non siamo all'estero tutti i giorni e la commessa ha preso, messo a posto, tirato fuori e messo via. Avanti. Prendo questo. Lo compro. Я покупаю это. Я покупаю это. Dove posso pagare? la casa è lì? Cassa è lì. Cassa è lì. Cassa è lì. Pago con carta di credito. Magu'ya zaplatit kreditnay kartečkaj? Prego, ecco il resto. Pajalas'ta, vot'vasha sdacja. Prego, ecco la ricevuta, fattura. Cosa ci rimane dopo gli acquisti? Non ci resta che tenere lo scontrino e ricordare tutto quello che abbiamo imparato. Il viaggio è finito e anche l'avventura nella nuova lingua. Era solo un assaggio e vi ha lasciato la voglia di continuare, vero? Noi ci siamo divertiti, speriamo sia stato lo stesso per voi. Ora vi invitiamo ad accompagnarci nello studio di un'altra lingua non meno bella. Grazie, ciao e ricordate come si dice? Arrivederci! Dov'viate! Dov'viate!